La Vezzano regala il primo successo casalingo nel neodenominato Stadio dei Marsi, Sandro Cimarra e i propri tifosi vincendo per 1-0 in una gara attenta e cinica contro il Roma City. Dopo il calcio d'avvio passano subito i marsicani su sventagliata dalla destra, il pallone arriva a Joao Alessi che scavalca così, Mattei forse a metà tra un tentativo di scarico al centro e un pallonetto. Gli ospiti rispondono al quarto d'ora con un'azione quasi omologa ma il collo interno di Bonello si spegne solo sul fondo. La gara è pimpante con l'Avezzano che ci prova con manovre ben studiate mentre il Roma City cerca di colpire in ripartenza. Le due squadre poi finiscono quasi per annullarsi e alla ripresa si va sul parziale di 1-0 in favore dei biancoverdi. Nella ripresa gli arancio blu mettono i brividi alla difesa avversaria ma il colpo di testa di Geronese non inquadra il bersaglio grosso. Da ottima posizione crescono i capitolini, Camilli prende la mira a centimetri dal pari l'ex Celano che lamenta anche una deviazione. Il secondo tempo sembra recitare lo stesso copione del primo con poche occasioni degne di nota e clamorosa. Però la chance cestinata dai paloni di casa al settantesimo, Gioao Alessi si travesse da assistman e pesca al bacio Ferrari che però incredibilmente spara alto nel cuore dell'area piccola romana. Salgono in cattedra i ragazzi di mister Boccolini ma Cultraro si riprende i galoni da titolare prima smanacciando un palone velenoso poi annullando il destro chirurgico di Di Fabio. Il Roma City le tenta tutte, Hernandez cade in aria ma per il liano di Napoli il fallo c'è sì ma è di simulazione con conseguente giallo. Per lo spagnolo nel recupero i biancoverdi rischiano il pasticcio con De Lorenzo ma la dea bendata restituisce a Lavezano qualche credito millantato in precedenza. Ha un giro di lancette dal termine vantaggiato su punizione senza precisione. Ma poco importa perché Lavezano regala il primo successo ai propri tifosi nel neodenominato Stadio dei Marsi Sandro Cimarra in una gara attenta e cinica contro Roma City che ci ha provato ma senza particolare cattiveria. Questa è una squadra che sta giocando sempre negli stessi undici purtroppo qualche defezione qualche infortunio e siamo corti e quindi stanno tirando. Il primo cambio se pensate l'ho fatto all'ottantasettesimo quindi potete ben pensare e capire che siamo un po' in emergenza però i ragazzi sono stati bravissimi. Nel primo tempo abbiamo fatto un grande calcio e abbiamo sbagliato due ultime azioni, l'ultimo passaggio, la decisione e meritavamo anche il doppio vantaggio. Però poi hanno difeso, oggi voglio fare un applauso alla difesa, quello che magari mercoledì, scusa sabato, domenica ho la partita contro il Tredigo Ascoli, l'avevo un po' tirato l'orecchia, la difesa oggi sono stati bravi. Oggi in difesa hanno lottato, sono stati veramente eccezionali. Perché in casa diciamo li meritavamo anche nel derby con l'Aquila e forse con la Civitanovese non meritavamo di perdere perché abbiamo sbagliato a un minuto alla fine del 2 a 2. L'unica partita che abbiamo steccato è stata con la Reganatese, anche lì l'espulsione e tutto quanto ci ha un po' compromesso per cercare di fare un recupero. Però diciamo la squadra sta reagendo bene con tutti i problemi che abbiamo perché abbiamo molti giocatori fuori, qualche partenza all'improvviso e la società si sta adoperando per cercare di prendere qui 3-4 giocatori che ne abbiamo bisogno perché su alcuni ruoli siamo molto scoperti. Le assenze, lo dicevo prima agli altri colleghi, fondamentalmente sono legate a un sacco di infortuni, ad alcune partenze perché poi ripeto noi non ci nascondiamo dietro a niente. Chi non ha piacere di stare a Rezzano può andare tranquillamente da qualsiasi altra parte. Fondamentalmente i saluti che abbiamo fatto fino ad oggi sono sempre stati estremamente consensuali anche perché non credevamo molto in quello che si poteva fare e probabilmente dall'altra parte c'era lo stesso tipo di condizione. Noi vogliamo gente che lotti per la maglia dell'Avezzano e gente che si dedica il 100% per l'Avezzano e con questo voglio essere chiaro per evitare ulteriori polemiche su pagano o non pagano i soldi e cose, tutte cazzate. Ci sono giocatori di calcio che fanno questo mestiere perché vogliono giocare al calcio. Se non trovano spazi, come ultimo può essere l'attaccante che abbiamo salutato, vogliono cercare spazi diversi. Il nostro allenatore non lo considerava adatto al suo modulo di gioco ed è giusto che il giocatore scelga la possibilità di andare a vedere un'altra parte senza dover per forza alimentare polemiche e quant'altro. Per il resto noi ci stiamo muovendo sul mercato perché stiamo seguendo le indicazioni del mister per quello che ci ha chiesto e quindi già domani credo arriveranno un centro campionista centrale e un difensore centrale. Stiamo lavorando per cercare un attaccante, stiamo lavorando per cercare un altro difensore centrale. Il portiere è arrivato e mi sembra che oggi ci ha fatto ricordare quanto era importante. Penso non ci sia altro da aggiungere.